Come saprete ormai il coronavirus ha dilagato in tutto il mondo, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente lo stato di pandemia e siamo qui oggi a commentare quello che è il giorno in cui ufficialmente tutto lo sport mondiale si è fermato a causa della pandemia di coronavirus. In questo video extra rispetto alla programmazione normale parleremo di tutti gli stop, tutti i rinvii e tutte le cancellazioni che hanno permesso agli sport che seguo su questo canale e anche a tutti gli altri di fermarsi per compromettere la diffusione del coronavirus e difendersi da questa malattia infettiva che sta causando un tasso di mortalità veramente molto alto. Ai microfoni metto to hard guard e partiamo con quello che è stato definito dagli sport americani come il giorno in cui lo sport mondiale si è fermato. Infatti nella giornata di ieri anche la Lega Professionistica Americana di Baseball, la MLB, ha seguito la decisione dell'NBA di sospendere il campionato. L'NBA in particolare ha fermato la Regular Season, tra l'altro se volete andare a vedere delle opinioni a riguardo vi linko sotto in descrizione il video di Teddy93, uno dei youtuber che seguo che parla proprio di NBA. Noi ci concentriamo sulle altre leghe americane e soprattutto la MLB che appunto nella giornata di ieri ha seguito il basket americano. L'MLB doveva concludere lo sprint training, sprint training che è stato però annullato e in contemporanea anche la Regular Season che doveva partire il 26 marzo è stata rimandata ufficialmente di due settimane. Questo appunto per decisione del commissioner Rob Manfred per appunto contrastare l'emergenza del coronavirus che è dilagata anche negli Stati Uniti con numeri per la verità molto più bassi ma negli Stati Uniti in realtà è un altro contesto. Negli Stati Uniti a ieri sono stati registrati 31 morti a fronte di mille casi. Niente a che vedere a quello che è ovviamente in Italia il cui problema è veramente molto grave però è stato un segnale importante da parte delle leghe professionistiche americane. Anche l'hockey e i tornei di tennis e il calcio americano si sono fermati. La NHL in particolare si è fermata per 30 giorni. Stessa cosa per il calcio. Il tennis ha di fatto cancellato il torneo di Indian Wells. Quindi già dagli Stati Uniti ci sono degli importanti segnali di chiusura di questi sport appunto per contrastare la pandemia di coronavirus. Tra l'altro soprattutto per quanto riguarda alcune leghe americane è stato un ritardo abbastanza evidente già col fatto che appunto sia in Cina sia in Italia ci sono stati dei casi veramente molto evidenti sarebbe stato meglio in alcuni casi fermare lo sport prima. Soprattutto anche nel baseball perché il commissioner Rob Manfred aveva detto questo martedì che avrebbe tentato di far partire la Lega il 26 di marzo a porte aperte limitando soltanto gli accessi alla stampa e limitati anche al personale negli spogliatoi evidentemente le cose sono cambiate e adesso la regular season partirà due settimane più avanti. Non dovrebbe essere il primo caso comunque di regular season ridotta anche perché si parla già di una regular season di 144 partite a fronte delle 162. Quindi staremo a vedere a metà aprile evidentemente potremmo anche andare dopo Pasqua se le cose dovessero peggiorare che cosa farà la Lega del Baseball. L'NBA adesso è stata sospesa invece che è una delle leghe in corso insieme all'Hockey e vedremo come struttureranno il resto della stagione considerato che sia basket che hockey su ghiaccio hanno in corso la fine della regular season e i playoff in questo periodo. Non solo però gli sport americani sono stati coinvolti, sono stati coinvolti anche gli sport motoristici e qui andiamo all'altra notizia del giorno ovvero questa. La gara che doveva svolgersi in Australia questa domenica il 15 di marzo è stata giustamente cancellata e qui colpevolizzo un po' la federazione internazionale di un grande ritardo perché qui abbiamo degli esempi veramente concreti di altre federazioni motoristiche in particolare quella del motociclismo che ha fermato sia la MotoGP sia la Superbike e vedremo in qualche modo come è stata fermata sia la MotoGP che la Superbike in Australia sono state fatte arrivare addirittura tutti i piloti e si sono resi conto che andava fermando tutto soltanto quando un membro del team McLaren è stato considerato positivo e questo è semplicemente un grosso errore della federazione internazionale se vedi che anche in questo caso c'è una pandemia quindi tecnicamente è un'epidemia che coinvolge tutti i continenti del mondo e sta aumentando di proporzione in proporzione ed è ovvio che magari anche nei continenti dove ci sono meno casi come in Oceania è possibile che arrivi dal momento che comunque si parla di eventi mondiali quindi tanti italiani coinvolti, tanti altri eventuali contagiati coinvolti insomma non è stata una scelta felicissima secondo me quella di fare andare tutti i piloti all'interno dell'Albert Park di Melbourne e infatti anche Lewis Hamilton ha detto in conferenza stampa che era abbastanza scioccante correre in Australia tanto è vero che appunto dal momento che hanno trovato un membro del team McLaren positivo McLaren che tra l'altro si era già ritirata dalla corsa australiana era sacrosanto fermare il Gran Premio australiano e dunque non assisteremo alla prima gara della stagione gara per alto dove la Ferrari tra l'altro avrebbe fatto anche abbastanza fatica la McLaren purtroppo da tifoso si era ritirata come già detto però quello che conta è quello che succederà al calendario che vediamo qui rappresentato e evidentemente non solo il Gran Premio d'Australia verrà cancellato ma potrebbe essere sicuramente coinvolto anche il Gran Premio del Bahrain perché come vedete era fissato per il 22 di marzo basti pensare che già i membri del team McLaren che hanno avuto contatto con il meccanico positivo avrebbero dovuto stare in quarantena e dovranno stare in quarantena la McLaren potrebbe addirittura saltare il Gran Premio del Bahrain a meno che non venga cambiato tutto il team di meccanici a servizio di Norris e Sainz sempre se il Gran Premio del Bahrain si faccia originariamente il califato del Bahrain aveva annunciato di farlo già a porte chiuse questa è una decisione già di qualche settimana fa vedremo se sarà confermato io ne dubito secondo me come la MotoGP si partirà a maggio perché anche il Gran Premio del Vietnam onestamente lo vedo a rischio a proposito di MotoGP andiamo a vedere quello che è il nuovo calendario come dicevo a maggio partirebbe la nuova stagione di MotoGP il condizionale è d'obbligo perché bisogna vedere ovviamente come il virus Covid-19 si va a diffondere a macchia d'olio se si andrà a diffondere a macchia d'olio in tutta l'Europa o in quale stato ovviamente al momento sono stati spostati sia il Gran Premio degli Stati Uniti che era fissato a Austin, Texas a inizio aprile l'hanno recuperato già fissato il 15 di novembre stessa cosa per il Gran Premio di Argentina che appunto sarà fissato per il 22 di novembre a oggi si partirà il 3 di maggio con la MotoGP molto molto avanti quindi aspettiamo in questo caso che il coronavirus abbia il suo decorso pare che se c'è un innalzamento delle temperature con un caldo più importante il coronavirus riesca a estinguersi staremo a vedere, io non sono un virologo, sono un sanitario di lavoro ma non mi occupo di batteri e virus in particolare virus comunque quello che conta è che al momento il calendario della MotoGP è sospeso e fino a maggio non vedremo delle gare così come probabilmente anche in Formula 1 stessa cosa di fatto in Superbike perché il Gran Premio del Qatar è stato già posticipato già dopo che il Gran Premio del Qatar della MotoGP è stato posticipato sono state rimandate alcune gare in particolare la gara di Spagna che doveva essere fissata a inizio aprile è stata recuperata per il 24 e 25 di ottobre gara di Jerez che dunque sarà la nuova chiusura di questo campionato punto di domanda gigantesco sarà appunto questo dell'Olanda il Gran Premio di Assen che è fissato per praticamente dopo Pasqua vedremo se sarà fissato anche quello italiano a maggio se il delagarsi del coronavirus è importante così come sta avvenendo in questi giorni proprio qui in Italia è abbastanza con un grande punto di domanda ed è evidentemente comunque un segno che in caso di emergenza lo sport vada fermato e in questo caso Federazione Motoristica ha fatto un ottimo lavoro anche un'altra federazione quella internazionale di sci ha fatto un ottimo lavoro lo vedremo più avanti un po' meno l'hanno fatto secondo me alcune leghe professioniche americane la Formula 1 e anche la Serie A perché la Serie A comunque sì è vero si è fermata però hanno dovuto aspettare di incastrare bene tutte le partite c'erano troppi interessi in ballo troppi soldi sul tavolo e dunque il campionato non si poteva sospendere assolutamente giocare a porte chiuse sarebbe stato un grosso danno non per il pubblico un danno di soldi per le società hanno giocato in qualche modo il recupero della 26esima giornata di Serie A in un modo abbastanza incredibile hanno giocato anche il big match Juventus-Inter finito 2-0 per la Juventus e poi giustamente hanno sospeso il campionato e qui il governo al di là di qualche decreto pressapochistico in realtà su altri aspetti soprattutto quelli lavorativi sullo sport ha fatto una decisione veramente interessante fermando tutto giustamente perché ripeto si tratta di pandemia e di emergenza nazionale per quanto riguarda appunto il campionato di quella 26esima giornata è stato abbastanza ridicolo perché si doveva giocare inizialmente a porte chiuse poi qualche società doveva giocare a porte aperte perché ci perdeva troppi soldi diciamoci la verità addirittura su Parma Spal e questa è la realtà la conosco bene perché ho abito di fianco al Tardini hanno cercato di rimandarla mentre i giocatori stavano per entrare in campo cioè la scena è stata fantastica si vedevano i giocatori pronti per giocare la partita Parma Spal tra l'altro persa dal Parma ovviamente perché con la Spal noi non vinciamo manco dipinti i giocatori stanno per entrare in campo di colpo vengono richiamati negli spogliatoi perché il ministro del sport Spadafora aveva deciso giustamente di sospendere tutto il campionato già dall'inizio poi in qualche modo hanno deciso di giocare hanno rimandato la partita di un'ora e mezza hanno giocato alle due di pomeriggio con che voglia abbia giocato le due squadre probabilmente me lo dovete spiegare voi e il Parma ha pure perso la partita di fatto non giocando una partita veramente inguardabile ma ormai il campionato di Serie A è giusto che venga sospeso si parla anche di sospensione addirittura dell'europeo di rimandarlo al 2021 in modo da far finire anche gli altri campionati perché ormai non solo la Serie A che tanto è stata perculata in quanto campionato italiano e quindi gli italiani erano i vettori maligni del mondo del coronavirus si è fermata ma anche la Liga Spagnola ha deciso di fermarsi per due settimane stessa cosa per il campionato americano il campionato olandese insomma tutti i campionati principali si stanno praticamente fermando e arriveranno anche le nuove deroghe per i campionati che non si sono ancora fermati quindi ancora una volta il calcio ha dimostrato di essere un po' indietro rispetto magari ad altri sport che per carità magari non saranno dell'immaginario collettivo è dovuto intervenire il governo addirittura per fermare il calcio in ogni caso fino al 3 aprile almeno non si giocherà ma secondo me si andrà più avanti dicevo si pare che gli europei vengano messi nel 2021 così come qualche evento di qualche sport invernale verrà messo nel 2021 e parliamo di un altro sport che seguo anche se sono sport decisamente migliori rispetto agli altri ovvero il salto con le sci e qui va veramente fatto un plauso alla federazione internazionale di sci che ovviamente visti i pochi comunque casi di coronavirus che ci sono in scandinavia il campionato di salto con gli sci stava svolgendosi in norvegia ha deciso di chiudere tutto per quanto riguarda la coppa del mondo non si disputeranno dunque le gare di trondheim e di vickersund e anche i mondiali di planizza mondiali di volo e quindi tutto questo è rimanato al 2021 come dice l'articolo di oasport.it ci sarà dunque lo stop ufficiale della coppa del mondo e dunque come abbiamo visto dalla grafica l'atleta inquadrato prima ovvero l'austriaco stefan kraft ha vinto la seconda coppa del mondo della carriera i mondiali di volo di planizza verranno rimandati nel 2021 e sarà un anno interessantissimo dunque quello del 2021 per il salto con gli sci perché nello stesso anno ci saranno la tour de 4 trampolini che c'è ogni anno il mondiale normale della FIS mondiale di sci nordico in germania a ubersdorf e poi ci saranno i mondiali di volo a planizza in slovenia quindi sarà un anno veramente ricco per il 2021 staremo a vedere adesso che cosa succederà per le olimpiadi che anche quelle sono un grosso punto di domanda al momento che si svolgono in giappone ok che si svolgeranno ad agosto però al momento non ci sono notizie riguardo a un'eventuale solpensione delle olimpiadi per il quale il salto con gli sci è disciplina olimpica ma in questo caso invernale in giappone si parla di olimpiadi estive quindi questo è tutto un po' un riassunto dei principali sport che seguo principalmente sul mio canale con una grande perdita sul calcio ma era comunque legittima e doverosa e dunque è giusto prendere come conclusione di questo video l'immagine di questo articolo del New York Post che indica il 12 marzo 2020 il giorno in cui lo sport si è fermato lo sport mondiale e qui viene appunto visto dal punto di vista delle leghe americane la MLB ha appunto rimanato la stagione hanno sospeso le Final Four NCAA uno degli eventi cardine del panorama sportivo americano hanno sospeso le NHL anche l'MLS e ovviamente l'NBA hanno tutto preso ruota agli sport americani principali hanno preso esempio dagli sport europei in alcuni casi ripeto hanno fatto dei ritardi ma era giusto e doveroso fermare tutti gli sport fatemi sapere dunque cosa ne pensate di questa decisione se avete notato dei ritardi o delle provvedimenti giusti di tutte le federazioni spero che questo video extra vi sia piaciuto il saluto da parte di Matthew Torga dunque ci vediamo presto con un prossimo video a tutti i Allegro seism Pierce KEN